John Borno ragazzi e poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Come sapete la Champions League ha finito i gironi E dopo domani, cioè no, lunedì ci saranno i sorteggi per i sedicesimi di finale E oggi abbiamo pot A e pot B per fare i sorteggi La prima cosa è che le squadre della stessa nazione e le squadre già fanno nel gruppo non possono affrontarsi Detto questo cominciamo con la prima squadra Ho preso un bigliettino Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain giocherà contro il Ovviamente se prende una squadra che è già affrontata nel gruppo o nella stessa nazione dovrò rimetterla dentro Ovviamente Affronterà il Affronterà Il L'Atalanta Vendetta per la finale a Lisbona La quarta finale a Lisbona Paris Saint-Germain Atalanta Andiamo avanti Manchester City Manchester City Manchester City giocherà in casa contro e fuori casa ovviamente contro Il Barcellona 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 Manchester City Questo sorteggio è proprio andando proprio benissimo per le Barcellone Che va a perso 3 a 0 contro di noi Qui nel secondo adesso Ci poteva capitare a noi il Manchester City In un quasi Barcellona Un bigliettino Bayer Monaco E affronterà il E affronterà il O la No questa è già presa Tatico Madrid Non l'ho già presa nel gruppo Quindi dobbiamo ripescarla Bayer Monaco Porto Bayer Monaco Porto Cioè abbiamo 3 partite Big match Prostimo Bigliettino Dalla Juventus Juventus La mia squadra Juventus Affronterà Affronterà ovviamente Il O la Il Siviglia Juventus Siviglia Diciamo che se sapiamo il Siviglia Ci va abbastanza bene Andiamo alla prossima squadra Borussia Dortmund E Borussia Dortmund Affronterà il O la Atletico Madrid Borussia Dortmund Altro grande big match Ma sono pochi bigliettini Real Madrid Il Real Madrid Affronterà Affronterà il O la Lazio Lazio Per ultima Liverpool Il Liverpool Il Liverpool Qui affronterà Il Mönchengladbach Liverpool Mönchengladbach E' l'ultima Squadra Per estrarre Saranno Chelsea Contro Contro Lipsia Lipsia Chelsea Quindi abbiamo Paese San Germania Atalanta Manchester Barcellona Bayern Monaco Porto Juventus Siviglia Borussia Dortmund 1 Atletico Madrid Real Madrid Lazio Liverpool Mönchengladbach Chelsea Lipsia Se succede così Veramente Ho C'ho Zecchato tutto Ma speriamo Che l'Italian Vada abbastanza bene Perché voglio Che l'Italian Vanno avanti Ma speriamo Che la Juventus Vada Tutta Tutta La finale Di Istanbul Comunque niente Ciao Porti qui sempre Se succede così Nei commenti Chi pensate Che sarà Ciao Porti qui sempre